Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, pagina della cronaca giudiziaria. In apertura del telegiornale ci occupiamo del blitz eseguito dalla polizia a Gela in diverse zone periferiche della città, rinvenute auto e moto rubate sotto sequestro, un'autocarrozzeria, numerose le denunce per ricettazione. Vediamo. Sigilli ad un'autocarrozzeria di Gela trasformata in un vero e proprio bazar di auto e moto rubate sorge sulla stradale per Catania. Gli agenti del locale commissariato, collaborati dai colleghi del distaccamento della stradale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno fatto eruzione nei locali ed hanno rinvenuto occultate all'interno di un ufficio due scatole contenenti punzoni in acciaio utilizzato per la ricostruzione alfanumerica di telai ed un'agenda utilizzata per la prova di punzonatura. Trovate inoltre tre centraline di autovetture di provenienza furtiva, delle quali il titolare non ha fornito motivazioni valide a giustificarne la presenza. Un successivo controllo dei mezzi in sosta all'interno della carrozzeria ha permesso di individuare una Smart Fortu, una Renault Twingo ed un autocarro Fiat Ducato, tutti con telai illegibili. Rivenute anche quattro scocche tagliate con le combinazioni alfanumeriche alterate ed un allongarone di una BMW. Per gli inquirenti in quell'autocarrozzeria si eseguiva un'attività di taglia in colla di varie auto in merito all'invenimento di numerosissimi pezzi di ricambio e parti meccaniche di varie marche e modelli di automobili e diverse targhe risultate di provenienza illecita. Oltre all'autocarrozzeria è stato sequestrato anche il forno per la verniciatura dei veicoli in quanto privo della prescritta autorizzazione per l'emissione dei fumi in atmosfera, oltre ad essere privo di registro di carico e scarico di rifiuti e dell'autorizzazione sanitaria. Sempre la polizia nelle adecenze di un agriturismo che sorge sulla 417 ha rinvenuto sei centraline relative ad auto di varie marche, oltre a svariate parti di carrozzeria e meccaniche. Il controllo è stato effettuato anche sulla statale 190 nelle adecenze di una ditta edile, trovati diversi libretti di autovetture, certificati di proprietà di macchine risultate rubate e due scocche di autovetture. Questi siti, riferisce alla polizia, erano senza ombra di dubbio utilizzati dai malviventi per occultare le auto rubate e lavorarle lontano da occhi indiscreti. Gli agenti di polizia hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un 24enne pregiudicato per reati contro il patrimonio, sospettato di gravitare nel giro delle auto rubate. L'esito è stato positivo. Rivenuti al secondo e al terzo piano dello stabile di famiglia, nel centro storico ed in un garage, numerosissimi componenti di autovetture, motocicli e ciclomotori, sulla presenza dei quali il ragazzo non ha fornito valide giustificazioni. Il giovane è stato denunciato per ricettazione. Identica accusa anche nei confronti di una coppia di coniugi. Lui 38 anni, lei 33. Utilizzavano una Fiat 500 ed un autocarro Daily Iveco con i codici dei telai contraffatti. I mezzi sono stati sequestrati. Un ragazzo invece è stato bloccato in possesso di un ciclomotore con il telaio contraffatto. Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche tre arresti. Sentiamo. Per gli inquirenti è l'autore del furto commesso il 9 novembre del 2015 e danni di un bar del quartiere Baracche a Gela che furtò un bottino di circa 10.000 euro. Lui è Vincenzo Scerra, 20 anni, con precedenti penali. È stato rintracciato a Paullo, in provincia di Milano, dove risiede da qualche tempo. Adesso è ai domiciliari. L'ordinanza di custodia cautelare è stata messa dal GIP e dal Tribunale di Gela Paolo Andrea Fiore su richiesta del Pubblico Ministero Eugenia Belmonte. Ad eseguirla è stata la polizia. Con la preziosa collaborazione della scientifica è stato possibile appurare come Scerra quel giorno, ripreso dalle telecamere, è uscito di casa per andare ad effettuare il colpo ed è stato successivamente ripreso mentre entrava nel bar, abbandonando sul luogo un palanchino utilizzato per forzare l'ingresso dell'esercizio commerciale. La perfetta compatibilità del vestiario, il possesso di un palanchino e di una borsa per occultare l'area furtiva e la tempistica dei fatti ha permesso agli inquirenti di avere un quadro probatorio di assoluto rilievo. Comparando le diverse immagini è stato possibile risalire al ragazzo. Sono in corso attivissime indagini al fine di provare l'eventuale coinvolgimento di Scerra in altri furti avvenuti a Gela, sempre ai danni di bar. Ed un pregiudicato di 38 anni, Vincenzo Cannizzo, è stato arrestato sempre dalla polizia per avere invaso la corsia opposta ed aggredito i poliziotti che lo hanno fermato. Il 38enne, dopo un lungo inseguimento per svariati chilometri, è stato sorpreso al cellulare mentre, per l'appunto, era alla guida della sua auto nella corsia opposta. Quando gli agenti lo hanno bloccato ha iniziato ad insultare i poliziotti e ad aggredirli. Uno degli agenti è stato anche ferito. Sottoposto all'alcol test è risultato positivo. Dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari. E i carabinieri hanno ammanettato Giuseppe Guastella, 33 anni. L'accusa è di furto aggravato e possesso di coltello di genere vietato. È stato sorpreso a bordo di un autocarro mentre si apprestava ad abbandonare l'area di un cantiere di una locale ditta di materiali edili. I militari dell'arma hanno bloccato il mezzo al cui interno c'era anche un minore. Rinvenuti attrezzi atti allo scarso, un coltello con lama da 20 centimetri, 120 bacchette di ferro da costruzione ed un pannello di lamiera coibentato. L'area furtiva è stata interamente recuperata e restituita alla legittimo proprietario. Guastella è stato collocato agli arresti domiciliari. Adesso cambiamo argomento. L'acqua dovrà essere distribuita nelle ore di urne e non più la notte. C'è un'ordinanza emessa dal sindaco di Gela, Domenico Messinese. Sentiamo. Sindaco, eravamo abituati fino a qualche notte fa ad accendere il motorino per attingere l'acqua che ci distribuisce Caltacqua. Da qualche ora a questa parte non è più così perché lei ha emesso un'ordinanza in cui obbliga la società di gestione a fornire l'acqua soltanto nelle ore di urne. Sì, dalle 6.30 del mattino alle 11 di sera alle ore 23. Questo perché è giusto che la notte è fatta per riposare. E tra motorini e il pensiero di dover rifornirsi di questo prezioso liquido molte gelesi hanno passato notte insonne. Bene, questo influisce sulla salute dei miei concittadini. Di conseguenza non dobbiamo essere noi ad abituarci ai ritmi di Caltacqua ma Caltacqua si deve abituare ai ritmi dell'uomo che sono più naturali. La notte è fatta per dormire e non per prendere l'acqua. E Caltacqua ha già risposto alla sua ordinanza? Ma no, io avevo chiesto a Caltacqua di spiegarmi le motivazioni per cui c'erano queste erogazioni un po' strane. Non ho avuto risposta di che ho fatto un'ordinanza ad Imperio ed è tenuta a eseguirla. Ora si dovrà agire rapidamente per adeguarsi all'ordinanza. Comunque sono arrivate anche delle buone notizie. L'ASPA ha confermato che tutto il litorale gelese non dimostra di avere problemi quindi è tutto balneabile tranne alcuni punti dove ci sono delle ordinanze specifiche per altri motivi. Però il mare di Gela risulta tutto abolito per le 22 km di costa. E quali sono i punti in cui non è balneabile? Sono normalmente vicino alle foci dei fiumi dove ci sono dei depuratori a monte proprio per una questione di tutela per evitare che ci possano essere degli sversamenti non controllati. Ma sostanzialmente sono dei limiti a livello precauzionale ma non perché vi sono degli inquinamenti irreali. È stata sancita nel corso di un'assemblea straordinaria che si è svolta presso la Casa del Volontariato di Gela l'unione tra il gruppo archeologico Triskelion Gela e l'associazione culturale Geloi. Erano presenti all'incontro diverse associazioni con le quali Triskelion aveva già avviato negli anni una collaborazione. Abbiamo salutato con grande emozione l'ingresso degli associati Geloi all'interno della grande famiglia dei gruppi archeologici d'Italia di cui la Triskelion è una sede locale ha dichiarato Giuseppe Laspina. Il gruppo adesso conta 108 associati e si prefigge di realizzare iniziative di grande rilievo per la promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio storico, archeologico e artistico del territorio di Gela. Nell'ambito dell'assemblea straordinaria è stato presentato il nuovo direttivo che è così composto. Emanuele Salafia, presidente Giuseppe Laspina, direttore Salvatore Tardino, segretario Francesco Minardi, tesoriere Andrea Rizzo, responsabile sezione teatro Silvia Scuderi, responsabile nucleo subacqueo Crocifisso, smecca consigliere Gianfranco Catalano consigliere la denominazione della nuova realtà associativa sarà dunque gruppo archeologico Geloi Il prossimo appuntamento è la Primavera dell'Arte un evento di grande rilievo giunto alla sua quarta edizione che avrà inizio il 6 maggio prossimo Adesso ci occupiamo delle interrogazioni sul sistema di street control attivato in città soprattutto sul fronte del contrasto alla sosta selvaggia delle auto A presentarle è stato il Polo Civico Sentiamo Consigliere, lei ha presentato una interrogazione per avere dei chiarimenti sui nuovi strumenti che sono in dotazione della Polizia Municipale Stiamo parlando dello street control che cosa chiedete e quali verifiche? L'abbiamo presentata insieme alla collega Bernice scusi la precisazione come Polo Civico No, praticamente la nostra è un'interrogazione che parte dal capire come sta funzionando il sistema però per cercare di fare luce essenzialmente su come viene gestito il servizio di repressione e di controllo della sosta vietata Perché? Perché noi chiediamo di sapere intanto quante pattuglie e quanti uomini sono impegnati perché ci stiamo rendendo conto che in quest'ultimo periodo diciamo la sticella va verso la repressione che verso la prevenzione Interi quartieri periferici soprattutto non sono assolutamente attenzionati dal corpo di Polizia Municipale mentre noi costatiamo come tutti che invece il centro storico è continuamente fatto oggetto di un giusto controllo da parte della Polizia Municipale per quanto riguarda i divetti di sosta e per quanto riguarda le macchine in doppia fila Lei fa riferimento anche a delle fonti normative che prevedono determinate circostanze secondo le quali possono essere elevate le sanzioni? Assolutamente sì la legge è molto chiara quando c'è un accertamento tu puoi fare la contravvenzione se manca la persona all'interno dell'automobile ma se la persona c'è quella contravvenzione non è valida perché deve essere assolutamente contestata quindi si parte da questo principio soprattutto per far sì che l'ente comune poi non sia esposto dal punto di vista economico a condensiosi con gli utenti che potrebbero vedere il comune soccombente quindi noi chiediamo che si faccia luce su questa cosa Inoltre chiedete che vi venga esibito il documento che attesti l'omologazione degli strumenti? Assolutamente l'amministrazione ci deve dire quando sono stati omologati i documenti soprattutto ci deve dire quanti apparecchiature sono state acquistate come sono state acquistate e se sono stati fatti bandi di gare un normale attività di controllo da parte del Consiglio Comunale Proseguono i festeggiamenti per San Giuseppe promossi dal comitato dei padri agostiniani a Gela giovedì 5 maggio alle 9 celebrazione eucaristica alle 18.15 il recital del Santo Rosario e l'Itania alle 19 celebrazione eucaristica con riflessione omiletica In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con 10 domande 10 ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà la psicoterapeuta Elisabetta Rita Pasqualetto le repliche sono previste alla mezzanotte domenica prossima alle 18 ci fermiamo c'è la pubblicità torniamo tra poco restate con noi Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo parlandovi della raccolta firme al fine di avviare i cantieri dell'autostrada Gela Siracusa avviata da Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale vediamo a riaprire da subito i cantieri dell'autostrada Gela Ragusa Siracusa riprendendo i lavori si darebbe uno sbocco occupazionale non indifferente al settore edile del luogo e non solo petizione popolare in piazza Umberto I da parte della sezione di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale ha raccolte 500 firme Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale ha deciso di fare questa petizione popolare una raccolta di firme chiamiamola la petizione popolare da inviare a chi di competenza nelle sedi opportune per chiedere vivamente che qualche cantiere della famosa costruenda autostrada Gela Siracusa possa partire da Gela Gela ha bisogno di lavoro e quindi non si capisce perché Gela deve essere l'ultima ruota del carro di questo famoso progetto che già viaggia con qualche anno di ritardo perché se in memoria non mi tradisce questo lavoro o questa opera doveva essere completata nel 1973 è passato qualche anno ma comunque non vogliamo fare polemiche con gli anni e con i trascorsi però chiediamo a viva voce che chi di competenza e chi di competenza significa la deputazione regionale l'assemblea regionale siciliana il presidente della regione sicilia si adoperino per fare affinché qualche cantiere possa partire da Gela per dare delle risposte a questo nostro territorio oramai martoriato e oramai quasi al collasso e alla crisi economica e poi sotto gli occhi di tutti purtroppo i suicidi e purtroppo la disperazione che si registra in questa nostra città la petizione continua presso la sede di Fratelli d'Italia in corso Vittorio Emanuele un altro gazebo verrà collocato il 15 maggio a Macchitella dalle 9.30 alle 13 il nostro obiettivo è quello di portare e fare realizzare infrastrutture nella nostra città oggi veramente abbandonata dalla regione e dall'ANAS non si capisce per quale motivo l'autostrada Gela-Siracusa parta soltanto ed esclusivamente da Siracusa e non da Gela per questo noi chiediamo che immediatamente i cantieri possano aprirsi nella nostra bellissima città c'erano anche componenti del comitato per lo sviluppo dell'area gelese sabato scorso a Catania all'incontro con il premier Matteo Renzi durante il suo intervento il sindaco Etneo Enzo Bianco ha parlato dell'adesione di Gela Piazza Armerina e Niscemi alla città metropolitana di Catania sentiamo quante novità quante novità ci sono in merito al passaggio definitivo di Gela Piazza Armerina e Niscemi alla città metropolitana di Catania perché anche di questo argomento si è parlato durante la visita del Presidente del Consiglio dei Ministri diciamo che Bianco nel suo intervento è stato chiarissimo dinanzi a Renzi ma soprattutto dinanzi al Derrio che è il propugnotore della legge 56-2014 denominata al punto Derrio e dinanzi a loro dice che la città metropolitana con l'aggregazione con l'adesione di Gela Piazza Armerina e Niscemi e lì hanno interrotto addirittura poi il bianco con gli applausi le persone perché è scoppiato in tutta la sala l'applauso ad applaudire c'era Renzi c'era Derrio c'era anche i sottosegretari c'erano anche i parlamentari regionali presenti e c'erano i sindaci oltre 40 sindaci del città metropolitana di Catania ad applaudire felicemente questa dichiarazione ora tocca in definitiva alla politica quella apprezzamente siciliana dare e dire la parola definitiva in merito alla vicenda diciamo che la politica siciliana sulle modifiche dei confini dell'ex provincia non è stata mai felice questo lo sappiamo benissimo però dobbiamo dire che adesso il problema non è più un problema politico ma un problema giuridico se loro non vanno avanti per quello che le loro leggi non le nostre leggi le loro leggi hanno chiesto di fare a quel punto diventa un problema di costituzione di rispetto delle scelte democratiche e quindi un problema costituziale se vogliono affrontarlo sotto questo profilo noi siamo pronti ad affrontarlo sotto questo profilo credo che non si arriverà a tutto questo abbiamo tre gelesi che hanno un peso importante alla regione il presidente Crocetta e due deputati regionali Pino Federico e Peppe Arancio beh ci arrivano voci da fondi istituzionali non che i gelesi stiano lavorando per votare con voto segreto e bocciare in aula queste cose noi non vogliamo credere a queste notizie che magari sono messe in giro a posto e vogliamo ricordare ai gelesi che questa è una scelta che non parte da noi ma che è una scelta che ha voluto la popolazione gelese e quindi anche i loro familiari i loro amici e i loro elettori soprattutto chiedo a loro di mantenere la schiena dritta e di portare al caso il risultato che i gelesi hanno chiesto attraverso il referendum è che il consiglio comunale per due volte per due diversi consigli comunali è scelto non ci sono più ostacoli a questo si terrà giovedì 12 maggio prossimo alle 19 presse locali del museo archeologico regionale di Gera la presentazione del romanzo di Vera Ambra Piume Baciatemi la guancia ardente porteranno il saluto della città natale di Salvatore Damaggio le autorità cittadine i presidenti delle associazioni Rotary Club FIDAPA Lions Club del Golf Kivanis Proloco Gela Archeoclub Lega Navale Piume Baciatemi la guancia ardente un romanzo storico e biografico liberamente ispirato alla vita e alle eroiche gesta di Salvatore Damaggio tenente bersagliere mitragliere gelese protagonista indiscusso della grande guerra il libro ha ottenuto il logo ufficiale per il centenario della prima guerra mondiale concesso dalla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della presidenza del consiglio dei ministri e anche il patrocinio morale dell'associazione nazionale del Fante Siamo allo spettacolo sabato 7 maggio al Cineteatro Antidoto di Macchitella alle 21 sarà portato in scena dalla compagnia Piccolo Teatro Città di Gela lo spettacolo Noi Donne ma soprattutto Madri la rappresentazione mette insieme diverse opere celebri del panorama letterario all'interno di una cornice attuale vicina ai fenomeni e alle dinamiche della società moderna l'appuntamento chiude la rassegna Teatro 2015-2016 promossa dal Piccolo Teatro Città di Gela ed è prevista per venerdì 6 maggio prossimo alle 9.30 la mini olimpia o le mini olimpiadi di atletica leggera l'iniziativa che si terrà alle mura Timoleonte di Gela e promossa dall'associazione Green Sport preseduta da Giuseppe Veletti si tratta della settima edizione con questa notizia è tutto grazie per la gentile attenzione per aver scelto anche oggi la nostra informazione vi ricordiamo che notizie servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato arrivederci a presto